bentornati a tutti i produttivi che ci seguono anche tutte le produttive ovviamente bellissimo qui un pomodoro volevo vedere insieme a voi com'è questo pomodoro abbiamo detto questo è il pomodoro della pianta vecchia ok delle diramazioni delle femminelle va bene quindi nato in primavera e raccolto in estate allora è un po spero si vedrà è un po stato attaccato dalla tuta così vediamo anche com'è togliamo il famoso pedungolo perché si raccolgono con il pedungolo il pedungolo giusto i pomodori va bene vede se si vedrà ho qui la luce così non mi posso mettere in un'altra angolazione va bene c'è un po di tuta si vede vediamo come dentro ok vediamo questo pomodoro come ce la facciamo guardate si vede spero di si guardate ciò che qua spero si vedrà non ha acqua praticamente è un pomodoro senza acqua in pratica non ha acqua è come è pienissimo ok è tutto pieno non hanno vuoti ora qui si è creato questo vuoto perché vedete la polpa è qua è la polpa è quasi a sé cioè è secca quasi quasi sembra un pomodoro era fresco avete visto il pedungolo no verde sembra un pomodoro passito come l'uva come l'uva passa cioè per farvi capire che non c'è acqua completamente non c'è acqua sarà dolcissimo sicuramente ora me lo mangio giustamente niente era per far vedere si può fare il pomodoro così questo qua la salsa viene la passata viene come la crema va bene sì la consistenza della crema chantilly bellissimo dai signori continuate a seguirci fate i bravi picciotti e le bravi picciotte questo qua non si mangia la parte verde signore si può fare con le concimazioni tutto concimazioni biologiche ok naturali va bene il nostro sistema metodo naturale non vi resta che seguirci mi raccomando le novità ci sono c'è il blog c'è il gruppo facebook guardate in fondo sempre ogni volta descrizione e le famose schede dove metto gli altri video se volete anche voi un pomodoro così ovviamente il sapore è dolcissimo ma quello non me lo posso fare vedere il sapore è meraviglioso la densità la consistenza che ha e quando andiamo a fare le passate e spettacolare le emozioni che si provano sono indescrivibili qualcuno addirittura mi ha detto che raggiunge l'orgasmo ciao fate i bravi picciotti